15 licenziamenti peraltro comunicati dai responsabili dell'azienda nel pieno della protesta del lavoratore del diretto dell'indotto della raffineria Eni contro il piano di ridimensionamento del sito locale e gli operai del gruppo Riva e Mariani incrociano le braccia. Questa mattina nessuno di circa 40 dipendenti ha avvercato i cancelli dello stabilimento. Dopo aver scongiurato negli scorsi mesi il taglio di 24 unità, la protesta dunque riprende. Un primo incontro in prefettura chiesto dai segretari provinciali dei chimici di Cigelle, Cisle, Will e UGL si è trasformato la scorsa settimana in un nulla di fatto a causa dell'assenza dei dirigenti di Riva e Mariani che sarebbero stati avvisati in ritardo. Oltre al contratto di coibendazione che noi facciamo dentro la raffineria Eni, l'azienda dice che l'Eni gli dà un concluo lavoro di ponteici. Quindi noi non riusciamo a capire dopo due contratti come facciano loro a licenziarci. I segretari tentano sempre di parlare con l'azienda ma l'azienda va per la propria linea. Quindi non ascolta anche perché non ha ascoltato nemmeno il prefetto che l'ha invitata a tentare un accordo e non si è presentata. Quindi ora noi siamo qua a protestare sperando che il prefetto la riconvocherà di nuovo e che si presenterà. I titolari della società invece legano la scelta di licenziare alla riduzione di commesse. Adesso gli operai da anni impiegati in fabbrica attendono una nuova convocazione in prefettura. La loro mobilitazione comunque sembra solo all'inizio.